La didattica multimediale, se usata in modo appropriato, ha una straordinaria rilevanza educativa, poiché è in grado di migliorare l'apprendimento e la capacità clinica individuale del discente sanitario. È infatti possibile creare una didattica personalizzata, dove gli studenti possono esprimere il meglio dei loro stessi grazie ad un autoapprendimento mediato dalla guida esperta di un docente capace di utilizzare software specifici ed adeguati. Imparare all'interno della multimedialità permette di facilitare un apprendimento che si avvantaggia della compartecipazione, della responsabilità individuale e del piacere di creare in qualche modo il proprio percorso di conoscenza. Oltre al video, quindi, puoi utilizzare i seguenti strumenti. Immagini, commenti vocali, suoni, animazione, ipertesti, mappe concettuali e soprattutto utilizza l'interattività.